Non si può morire a scuola, non vogliamo morire a scuola e l'altro con un hashtag particolare mamma papà oggi non vado a scuola. Una forma di protesta che segue ad alcuni incidenti che si sono verificati nelle aule del secondo piano del Poerio. Esatto, all'incirca nella notte tra il 6 e il 7 ottobre è caduto un pezzo di calcinaccio dal soffitto del secondo piano del liceo Poerio. Purtroppo non è la prima volta che si verificano questi eventi, infatti sono già due anni che aspettiamo che facciano qualcosa, dovrebbero rifare tutti i solai, tutto il tetto, sia l'autopo aereo che l'auto in Audi. Però purtroppo la provincia sono due anni che non fa niente, non si muove, questi soldi non si vedono, i lavori vengono prima iniziati e poi si fermano e quindi noi abbiamo deciso di lanciare un appello al Presidente della provincia e chiedergli signor Presidente ma adesso questi fondi dove sono? Che fine hanno fatto? Nel 2016 si può veramente morire a scuola per un lavoro da voi non svolto perché doveva essere svolto a tempo debito? Questo naturalmente ha portato degli scompensi per quanto riguarda la frequenza regolare, siete stati costretti a fare dei turni? Esatto, siamo stati costretti a fare dei turni e all'inizio le classi del piano di sopra non venivano proprio a scuola, non frequentavano le lezioni. Dopo hanno deciso, la dirigente ha deciso di effettuare dei doppi turni. I ragazzi del piano inferiore si alterneranno ai ragazzi del piano superiore due giorni, cioè due giorni il piano superiore e due giorni il piano inferiore. Però questa cosa da quanto abbiamo capito potrebbe durare all'infinito fino a quando appunto la provincia non si deciderà a fare qualcosa o come al loro solito cercheranno di rattoppare questi buchi e ci lasceranno con dei battoni scoperti e noi andiamo a scuola regolarmente. Oggi se TIN dovesse prolungarsi questa situazione di disagio, cos'altro avete in mente? Se si prolungherà stiamo cercando di prendere dei provvedimenti, andare a parlare direttamente con il Presidente, ma tanto noi la risposta sappiamo già qual è, perché non è la prima volta che, come vi ho già detto, facciamo questa cosa. Purtroppo hanno deciso che in questa città non ci vogliono ascoltare. A noi, come altre persone, come due anni fa, gli ex rappresentanti di istituto che hanno deciso di effettuare questa manovra. Noi proveremo anche quest'anno, sperando in una risposta del Presidente della provincia. Uno slogan piuttosto forte, non vogliamo morire a scuola, insomma ci sembra una protesta da parte degli alunni che sono stati costretti in pratica a disertare alcune ore di lezione, anche se poi sappiamo che si sono stati istituiti dei turni. Lo slogan effettivamente è forte, è evidente che la sensibilità sul problema della sicurezza nella scuola oggi è maggiormente evidente alla luce di tutto quello che accade e che registriamo nella realtà. E proprio per questa ragione tutte le aule del secondo piano del nostro istituto sono state inibite proprio per fare dei verifichi, dei controlli e delle messe in sicurezza, anche se il problema si era verificato in un'unica aula del secondo piano ed era al distacco di un intonaco del solaio. È un episodio però che si ripete in un certo senso. Già qualche anno fa questo istituto è stato interessato dallo stesso problema. Non è stato fatto nulla o è stato fatto poco, forse, per porre rimedio a questo problema che potrebbe diventare serio? Ogni volta che accadono queste problematiche interviene l'ente preposto, mette in sicurezza e risolve in qualche modo la problematica. Non so gli interventi precedenti, negli anni dei corsi, perché è un paio d'anni che sono in questa scuola. e in ogni caso adesso c'è un appalto molto consistente per il quale tutto il secondo piano dell'intero palazzo degli studi sarà messo in sicurezza. Quindi tutti i solai saranno bonificati, non so se questo è il termine giusto, ma saranno effettivamente migliorati nella loro sostanza. C'è un impegno ufficiale della provincia in tal senso? È certo che c'è un impegno ufficiale, è stato già firmato il contratto con l'azienda che deve cantierizzare l'istituto. È chiaro che l'episodio adesso che è accaduto giorni fa ha accelerato un po' questa cosa e si parte a breve, non appena i tempi tecnici delle procedure formali, burocratiche, contrattuali consentano di cantierizzare la scuola. Nel contempo, l'impegno di tutti gli enti, provincia, amministrazione scolastica, quindi il provveditore e anche l'eccellenza, il prefetto che è molto sensibile ai problemi della scuola, tutti questi organi stanno lavorando in maniera sinergica affinché a questa scuola siano date altre aule allocate, quindi altrove, probabilmente in altre strutture scolastiche, per poter avviare un periodo, ritornare a un periodo di serenità. Volendo trasmettere un messaggio soprattutto ai genitori dei ragazzi, ma anche ai ragazzi, che cosa direbbe? Che si devono fidare di quello che facciamo come organi di controllo, di gestione, preposti al ruolo che occupiamo. Devono continuare a darci il mandato di fiducia, che è la fiducia che ci hanno dato quando hanno iscritto i loro ragazzi in questa scuola.